Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori da Adolfo Leoni e iniziamo il telegiornale Il flash di FM TV di Marca, la prima notizia riguarda un incidente, drammatica avventura questa mattina sull'A14 intorno alle 4 per l'autista di un camion che trasportava pannolini di bambino Il mezzo pesante che viaggiava in direzione nord e si trovava a circa 2 km dal casello di Porto San Giorgio ha preso improvvisamente fuoco Una densa cortina di fumo ha raggiunto anche la strada nazionale A spegnere le fiamme sono arrivati i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto La polizia autostradale ha avviato un'indagine sulle cause del rovo Cambiamo argomento Aperta la procedura per la cessione del 49% del capitale della Solgas SRL Il bando è stato pubblicato ieri sul sito del comune di Fermo, la base d'asta di 3.248.000 euro Condizione per partecipare, aver gestito per gli anni 2012, 2013 e 2014 Anche attraverso società controllate, servizi di vendita di gas naturale ed energia elettrica Ai clienti finali per un fatturato complessivo non inferiore ai 60 milioni di euro Di cui almeno 20 milioni realizzato nell'anno 2014 Cantiere Marche sbarca a Porto Sant'Elpidio Il progetto politico che vede in prima fila l'ex sindaco di Fermo, Saturnino Di Ruscio Sarà presentato il 18 marzo presso la sala riunioni della Croce Verde È un cantiere, spiegano gli organizzatori, in continua evoluzione Che unisce all'esperienza pratica, alla formazione politica e personale I partiti hanno perso la carica ideale che li aveva contraddistinti nel secondo dopoguerra E si sono trasformati in centri di potere e affari, spesso neanche leciti C'è dunque bisogno di costituire nuove formazioni politiche Dare un contributo di idee e di riflessioni sul futuro lavorativo dei giovani E con questo presupposto che il Lion Club Fermo Porto San Giorgio del distretto 108 Italy Presiduto da Abdul Ghani Macchi Ha organizzato per sabato prossimo all'Auditorium San Martino di Fermo Un incontro dal titolo I Giovani, Processi Educativi e Mercato del Lavoro Un'alleanza tra istruzione ed impresa Interverranno tra gli altri Giorgio Derita, direttore e segretario del Censis Sul tema abilità teoriche e intelligenza pratica, il sapere nell'era digitale Pascolino Montanaro della Banca d'Italia con capitale umano, istruzione e mercato del lavoro Infine Massimo Esposti del Sole 24 ore sui sogni in Whatsapp In questi tempi è importante che ci siano occasioni del genere Dove davvero poter analizzare a tutto tondo cosa vuol dire mercato del lavoro E come i giovani si devono rapportare ad esso Credo che il contributo importante dei tanti ospiti presenti Possa fornire un'analisi corretta, varia, ampia Su cui credo anche le scolaresche che sono invitate a partecipare Avranno modo di intervenire Si tratta di un'occasione di alto profilo Di cui la città di Fermo è orgogliosa Per l'arricchimento del dibattito proprio in seno Al rapporto tra formazione, lavoro e giovani Questo convegno non è altro che fa parte di un tema nazionale Di un service nazionale che è stato proposto nel congresso di Bologna Dove è stata evidenziata la situazione sempre più complessa Per ciò che riguarda i giovani e il lavoro O perlomeno il lavoro e i giovani Non sempre i giovani sono preparati e attrezzati Per potersi proporre alle aziende Anche perché noi vorremmo creare con questo evento Con questa iniziativa un momento di confronto Non tanto di dialogo, ma di confronto E proporre nuove idee Non nuove soluzioni Ma proporre nuove tematiche Che possono consentire ai ragazzi di affrontare Quello che sarà il futuro e il mondo globalizzato Abbiamo vari servizi messi in piedi Non ci fermiamo Abbiamo servizio per le scuole E quest'anno abbiamo servizio per la scuola d'arte Dove i ragazzi faranno delle opere Anzi abbiamo commissionato a loro otto opere Che queste opere saranno premiate I quadri e l'arte che faranno gli studenti Saranno messe all'asta per fare altri servizi E questo pensiamo che sia positivo Per produrre il più possibile E rendere utile moltiplicare i nostri soldi I nostri servizi Crescono nel 2015 I lavoratori nelle campagne marchigiane Più 7% in controtendenza Rispetto al dato generale Che vede l'occupazione sostanzialmente ferma Sui livelli del 2014 Con la verdita di circa 500 addetti Per un totale di 624.802 occupati Lo riporta la Col di Retti Sulla base dei dati in stati relativi al quarto trimestre In cui si registra anche un calo del 3% Della forza lavoro nell'industria Meno 7% per le costruzioni E una crescita del 2% invece Nel campo dei servizi Ed ora invece parliamo Della dieta mediterranea E della civiltà rurale Perché anche tipicità Se ne è occupata in un convegno Organizzato dall'IRCA Il relatore principale è stato il dottor Pietro Scendoni Responsabile servizio di reumatologia E laboratorio di ricerca Come sapete la dieta mediterranea È la dieta che consente al nostro territorio Una lunga longevità Quello che noi perseguiamo è L'innovazione ma facendo tesoro della tradizione Innovazione scientifica e tradizione rurale Insieme per garantire la longevità di domani Questo è il messaggio lanciato dal convegno Dieta mediterranea e civiltà rurale Viatico per i centenari marchigiani Organizzato dall'IRCA Fermo in occasione della giornata inaugurale di tipicità Partendo dai mutamenti nello stile di vita E dunque nell'alimentazione Degli ultimi 50 anni Di cui è relazionato il professor Leonardo Seghetti Si è cercato di sottolineare insieme agli specialisti medici dell'IRCA Il dottor Paolo Scendoni Il dottor Bruno Mistretta E il dottor Paolo Orlandoni L'importanza dell'alimentazione E il ruolo della nutrizione Nella prevenzione di osteoporosi e sarcopenia L'osteoporosi e la mancanza di muscolo Cioè la sarcopenia Sono poi due facce della stessa medaglia Se possiamo dire che l'osteoporosi ha prevalenza donna La sarcopenia ha prevalenza uomo Ma poi gli effetti sono gli stessi Cioè la fase di fragilità Perché porta l'osso poi a fratturarsi Quindi mettere in campo tutte le strategie Da quello che è la nutrizione L'alimentazione Il movimento L'attività fisica Presente al convegno Oltre al sindaco di Fermo Paolo Calcinaro E all'assessore regionale all'agricoltura Anna Casini Anche il direttore generale dell'IRCA Dottor Gianni Genga Che ricordando come l'istituto da lui diretto Sia l'unico ente nazionale Ad occuparsi di ricerca scientifica Relativa all'invecchiamento Ha ribadito l'impegno dell'IRCA Nell'ambito della longevità attiva In questi ultimi anni L'IRCA ha anche sviluppato Tutta una serie di attività E di attenzione Sempre legate all'invecchiamento Che approfondiscono In maniera più attiva La longevità La buona longevità Quindi cercare di passare Da una logica Prattamente di tipo assistenziale E di cura Ad approfondire tutte quelle situazioni Che possono favorire Il buon invecchiamento Della popolazione E questo in una regione Come le Marche È il più alto indice Di vecchiaia Del nostro paese Ed una delle regioni Più longevi del mondo Quindi è una tematica Che l'IRCA Rispetto alla quale l'IRCA Si propone Anche di essere sempre più Punto di riferimento Sia a livello locale Già lo è Che a livello nazionale Ed ora cambiamo argomento Perché un incontro pubblico Sabato prossimo Alla sala Montalcini di Fermo Organizzato dal presidio scolastico Dell'Associazione Libera Barbara Rizzo Giuseppe Salvatore Asta E dall'Istituto Comprensivo Fra Cassetti Capodarco di Fermo Sul tema Memoria del passato Etica del presente Presentazione del libro Sola con te In un futuro aprile Di Margherita Asta E Michela Gargiulo Beatrice Fazzi L'attrice di Un medico in famiglia Sarà invece a Montegranaro Giovedì 17 marzo Presso la chiesa di San Liborio Presenterà il suo libro Dal titolo Un cuore nuovo Dal male di vivere Alla gioia della fede L'iniziativa è stata presa Dall'unità pastorale di Montegranaro E dall'azione cattolica locale Cento anni fa Nasceva a Monte Giorgio Antonio Angelelli Più noto a tutti Come Entuni de Tavarro Agricoltore e poeta O meglio poeta Perché agricoltore Vincitore negli anni 60 Della corrida Condotta da Corrado Ha scritto numerose Bellissime poesie in vernacolo Nei prossimi giorni E in vista Del tradizionale appuntamento Con Monte Giorgio Cacionà Dell'1, 2 e 3 aprile Sarà presentato un libro Che ricorda l'uomo E la sua opera Il premio L'Anello Debole 2016 Conferito dalla comunità Di Capodarco Si arricchisce Quest'anno Di un nuovo premio speciale Si chiama Corto Giovani E verrà assegnato Al miglior video Tra quelli in concorso In tutte le sezioni E realizzato da autorità Da autori Scusate Di età compresa Tra i 18 E i 36 anni Corto Giovani E promosso in collaborazione Con il premio letterario Cop for Wars Il riconoscimento Che Cop Alleanza 3.0 Insieme a Cop Lombardia Cop Liguria Cop Reno Assegnano da 13 anni A giovani autori di racconti Poesie Testi di canzoni Ed altro ancora Il video vincitore Sarà proiettato Sia al Capodarco L'altro festival Che al festival Di letteratura Di Mantova Da domani Venerdì A domenica prossima Fermo Sarà la capitale Italiana Degli scacchi 12 squadre 50 giocatori Insieme a riserve Accompagnatori familiari Provenienti dall'Italia Del nord est E dall'Italia centrale Parteciperanno infatti Alla 48esimo Campionato italiano Scacchia a squadre Di serie A1 Evento Sostenuto dalla Fondazione Cassa di risparmio Di fermo Camera di commercio Hotel San Paolo E Villa Lattanzi Questa era l'ultima notizia Grazie per essere stati con noi Ed ora passiamo All'editoriale Ed ora Più che un Editoriale Si tratta di un Approfondimento Soprattutto di uno Spunto Quindi Editoriale di oggi Possiamo dire Storie Storia e storie Del nostro territorio Il Lecilento È stato chiamato A fermo Per darci una lezione Per ricordarci come storia, teatro, agricoltura e cibo debbano andare a braccetto In Piazza del Popolo i briganti, già insorgenti antifrancesi e più tardi antisavogli hanno sparato con bombarde schioppi contro i borboni cavalieri Un'evocazione del regista Gaetano Stella che poco si è discosta da similari spettacoli francesi La proposta è stimolante Il Piceno è ricco di storie Le sue proprie Manca però Manca però una compagnia teatrale o più compagnie teatrali che le assuma come impegno di lavoro Il Murello di Montelparo lo fece nel 1989, due secoli dalla rivoluzione francese e quasi lo stesso tempo dall'ecidio di Luigi Navarra Lungo il fiume Tenna, di notte, illuminati dai fuochi da campo, senza palcoscenici, poltrone, microfoni o fari Gli attori guidati dalla regista Sergio Soldani rievocarono il massacro che i francesi occupanti compirono contro gli insorgenti Nel mulino di Piane di Falerone Miconi, ammazzando il giovanissimo Navarra e attaccando Castel Clementino, costrage conseguente Fatti d'arme ce ne sono a Iosa Della rocca di Rinaldo a Monteverde resta soltanto qualche pietra e qualche arco inghiottito dal collo di Santa Susanna La rocca fu conquistata e data le fiamme dopo che il guerriero tiranno era stato ucciso a fermo Immaginiamo allora l'assalto nel verde delle pendici del manufatto Immaginiamo le urla degli attaccanti, l'olio bollente, ultima risorsa degli assediati Immaginiamo la conquista e poi la distruzione Che drammatico spettacolo Ed immaginate ora la vicenda di Castel San Giorgio I turchi non fanno sconti Sbarcano, depredano, violentano, uccidono È il XIV secolo, i corsari sbarcano sulle nostre coste La campana rintocca l'allarma I popolani scendono in armi come possono Le orde musulmane invadono una parte del castello Vana è la difesa del comandante Pierfrancesco Ultimo baluardo è Roccatiepolo Lì convergono donne, anziani e bambini Sugli spalti Rossana, la donna del capo, è terrorizzata I turchi sono dentro le mura Come nella troia in fiamme Le donne si gettano dall'alto per evitare oltraggi Così farà la castellana Seguita più tardi dal suo uomo Che, uccisi quanti più invasori Si toglierà la vita con un pugnale al cuore Ma non basta Perché c'è storia recente da poter mettere in scena Un personaggio stavolta è un fatto Entrambi scordati Silvestro Baglioni da Belmonte Piceno Fisiologo, docente universitario Musicologo ed anche archeologo È il 1944 Il fronte arretra I tedeschi sono in fuga Incattiviti dagli attacchi mordi e fuggi dei partigiani Un fatto di sangue a Belmonte Piceno Chiede vendetta Al muro un gruppo di cittadini Sarebbe strage se un uomo non si facesse avanti Non parlasse tedesco E non si rivolgesse al tenente germanico Con fare amichevole Baglioni ha insegnato a Gottinga E coincidenza non casuale O misericordia immensa Ha avuto quel tenentino tra gli studenti Il riconoscimento, l'abbraccio E le armi che si abbassano Quante storie della nostra terra Quante occasioni per compagnie teatrali Allora un invito a Graziano, Marco, Sergio E a tutti gli altri registi Il prossimo anno saremo noi nel Cilento Se ci vorranno